Noi usciamo da sei mesi di tensioni riguardanti il nostro settore. Esordisce così Riccardo Padovano, segretario regionale di Sib, nell'assemblea di ieri pomeriggio alla Serena Majestic di Montesilvano. È stata poi la Regione, nel mese di febbraio, con la legge dell'assessore di Dalmazio, a salvare la fondamentale risorsa di tante famiglie e imprenditori, disponendo la proroga, fino a un massimo di 20 anni in relazione agli investimenti effettuati, della concessione degli operatori che hanno attività sul litorale di proprietà del demanio. I balneari riconoscono e apprezzano la sensibilità e l'attenzione innanzitutto dell'assessore di Dalmazio. Ora non bisogna fermarsi. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, predisporre subito il regolamento attuativo per la estensione delle concessioni. I balneari hanno bisogno di riferimenti certi per programmare il futuro, la stagione 2011 per questa estate, intanto l'impegno a non aumentare i prezzi e offrire un pacchetto turistico, tutto doc, pacchetto doc dei balneari e successivamente chiediamo anche all'amministrazione regionale quella modifica all'ordinanza demaniale che è fondamentale per la gestione della stagione estiva. Altro problema impellente, l'erosione. Sollecitato sulle strategie adottate dalla Regione, l'assessore di Dalmazio ha spiegato Siamo in una situazione grave perché non ci sono risorse, ma stiamo facendo in una logica di dialogo e di confronto tutto il possibile e credo che alcuni risultati si stiano vedendo. Certa cosa è che mancano le risorse, ma siamo impegnati anche lì su piani strutturali per consentirci di reperire tutti i soldi necessari, perlomeno per fare e adottare delle soluzioni che siano strutturali. Nessuna improvvisazione, quindi, tantomeno ritardi o favoritismi. L'impostazione che l'assessore di Paolo ha supportato dal sottoscritto, ha supportato da tutti i sindaci che hanno condiviso questa impostazione e dalle associazioni, adatto al problema, non più palliativi, ma soluzioni strutturali. Duro poi l'attacco di Padovano ad alcuni comuni sui piani demaniali. Ci sono comuni che non sono in ritardo, che pensano di fare i professori sedendosi in cattedra e parlare demanio quando non conoscono nemmeno l'ABC e chiederei a questi comuni che partecipano a convegni perché ancora oggi non approvano i loro piani demaniali comunali. E sarà uno dei problemi che dovremo affrontare nella revisione del piano demaniale marittimo. La posizione di Sib Conf Commercio è critica, ma collaborativa. È necessario che all'arroganza di certi amministratori si sostituisca l'interesse per una bene risorsa comune. Mi spiace che ci sono certi sindaci che continuano a vessare contro i titolari di stabilimento di biani demaniale quando invece sono gli attori principali che insieme a loro possono costruire l'immagine del proprio territorio.